13 e 50, buon pomeriggio. Giovedì 12 ottobre 2017, auguri a tutte le Marie vista la giornata e apriamo con l'emergenza idrica che sta interessando il centro storico, non solo il centro storico ma soprattutto il centro storico di Catanzaro ormai dalla giornata di ieri, sono più di 24 ore infatti che manca l'acqua a causa di una perdita molto consistente, oltretutto non è stato neanche facile individuarla perché prima erano iniziati gli scavi in via Matteotti poi in piazza Matteotti, poi ancora su via Mario Greco, adesso la perdita è stata individuata e il Comune fa sapere che la situazione sta lentamente tornando alla normalità ma per la normalizzazione completa ci vorranno altre 24-36 ore, anzi in questo momento si sta studiando la possibilità di far sopportare anche ai cittadini della zona di San Leonardo, sempre zona centrale ma un po' più a nord del capoluogo, qualche disagio per favorire coloro che stanno soffrendo maggiormente, questo fino alle 18. Il Comune ha attivato un servizio di autobotti e un'altra rottura c'è anche sul serbatoio di Fondachello che ha causato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua nella zona sud della città, della parte storica tra Piano Casa, Samà, Via Lucrezia della Valle e Via dei Conti Falluc, gli interventi di riparazione sono iniziati, in serata la situazione dovrebbe tornare alla normalità, ai disagi che si stanno registrando nel centro storico si aggiungono anche i divieti che sono stati ordinati ieri di non utilizzare l'acqua per scopi potabili del prelievo di Via Procopio nel quartiere Santa Maria perché i parametri superano il lecito e il consentito per quanto riguarda in modo particolare i coliformi fecari. A tal proposito il Codacon si ha annunciato di avere presentato un esposto alla Procura in relazione all'inidoneità dell'acqua al consumo umano e chiedendo di procedere per vari reati dall'avvelenamento delle acque all'interruzione di pubblico servizio, dall'abuso d'ufficio al delitto contro la salute pubblica. È una vera e propria indecenza, sostiene il vicepresidente nazionale del Codacons, Francesco Di Vieto, che è catanzarese, che migliaia e migliaia di cittadini siano costretti da molto tempo a convivere con l'acqua sporca che sgorga dai rubinetti delle proprie case, acqua che pagano come se fosse potabile. Ieri a Catanzaro si è tenuta una riunione presenti i consiglieri regionali eletti nelle circoscrizioni della provincia di Cosenza per parlare del nuovo ospedale. È stato presentato lo studio di fattibilità, ci sono tre siti possibili entro la fine di quest'anno, ha garantito il presidente Oliverio, si sceglierà dove localizzare il nuovo nosocomio. Intanto tutti d'accordo sia sul metodo e anche sulle procedure seguite fin qui. Tutti chiedono, però su questo comunque non c'è chi non possa trovarsi sulla stessa lunghezza d'onda, tempi certi e soprattutto rapidi. Vagliolise, località Muoio, via degli Stadi. È questa la terna dei siti tra i quali entro la fine dell'anno verrà scelto quello su cui verrà costruito il nuovo ospedale di Cosenza. Lo ha detto il presidente della regione, Oliverio, al termine dell'incontro con i consiglieri regionali eletti in provincia di Cosenza per presentare lo studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione del nuovo nosocomio, realizzato dai progettisti del raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicata la gara bandita dalla regione Calabria e che ha già progettato, fra gli altri, i nuovi ospedali di Monselice e Bergamo, il nuovo ospedale Galliera di Genova e il Policlinico di Bari. Lo studio di fattibilità costituirà la base progettuale per la scelta della localizzazione della struttura ed ha preso le mosse dall'analisi delle condizioni dei tre ospedali dell'Asp di Cosenza, vale a dire l'Annunziata e il Mariano Santo in città ed il Santa Barbara di Rogliano, mettendone a fuoco criticità strutturali, funzionali, impiantistiche e di accessibilità. Il nuovo ospedale avrà una superficie di circa 134 mila metri quadrati e una dotazione di 705 posti letto. Tutti d'accordo, i consiglieri del Cosentino, sulla metodologia posta a base dello studio e soprattutto sulla necessità di accelerare l'iter della realizzazione del nuovo nosocomio. È uno studio che ci consentirà di valutare la soluzione migliore. Ieri proprio con il sindaco di Cosenza che ha chiesto ulteriori approfondimenti, noi abbiamo appunto consentito a questo e abbiamo posto e concordato naturalmente il problema dei tempi che entro il 31 dicembre di quest'anno. Si è concluso il lavoro relativo all'istruttoria, alla conferenza di servizi che sarà convocata per l'approvazione definitiva, la individuazione definitiva del sito, l'approvazione dello studio di fattibilità perché dal primo di gennaio si passi alla seconda fase che è quella della realizzazione della progettazione necessaria perché poi si proceda con le gare nel rispetto della legge e l'ospedale possa avere le condizioni per essere cantierato. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 920 mila euro a Vincenzo Vitale di Guardavalle che è ritenuto vicino alla Cosca Gallace che fu coinvolto nell'operazione denominata Itaca che portò all'arresto di 25 persone. Il sequestro è stato disposto dalla seconda sezione penale della misura di prevenzione ovviamente nel Tribunale di Catanzario e ha riguardato due fabbricati nel comune di Guardavalle e due automezzi. Torniamo a parlare per la verità a distanza di pochi giorni della zona economica speciale dell'area centrale della Calabria per la quale i sindaci dell'area centrale stessa, dei quattro comuni più rappresentativi, tre capoluoghi Catanzaro, Crotone e Vibo più la Mezzia Terme, si erano riuniti. Perché? Perché la proposta presentata alla Regione aveva trovato un'accoglienza a dir poco fredda, mettiamola così, e perché c'era l'intenzione intanto di studiare misure per dare forza a questa idea e poi l'idea era anche quella di incontrare il sottosegretario allo sviluppo economico gentile. Il che è accaduto ieri e da un rappresentante del Governo è venuta più di un'apertura a questa possibilità che offrirebbe naturalmente un'occasione formidabile per tante imprese, per motivi di defiscalizzazione, per motivi di maggiore possibilità attrattiva di investimenti o di creazione di nuova occupazione. Nessuna antitesi è stata ancora una volta ribadita con la zona economica speciale che ormai è appannaggio invece dell'area portuale di Gioia Tauro. La seconda zona economica speciale per la Calabria, quella per l'area centrale della regione, ben 700.000 abitanti interessati, è un'ipotesi realizzabile, anzi auspicabile. È più di un'apertura quella giunta ieri nell'incontro che il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, accompagnato dal senatore Pietro Aiello, ha avuto dal sottosegretario allo sviluppo economico Antonio Gentile per discutere delle opportunità legate alla prossima istituzione della zona economica speciale nell'area portuale di Gioia Tauro. Gentile ha spiegato che la ZES può essere un importante volano di crescita, ma ha riconosciuto che per massimizzarne gli effetti occorre individuare una traiettoria di sviluppo che faccia leva anche sulla restante parte della regione, sprigionandone le potenzialità, investendo sulle imprese e in particolare sulle filiere di eccellenza di agriindustria e turismo, in modo che i benefici si estendano all'intero territorio regionale. Appena pochi giorni fa i sindaci di Catanzaro, Crotone, Vibo Valencia e la Mezzia Terme si erano incontrati per fare una sintesi, dare il via a un'azione congiunta e rilanciare al presidente della regione Oliverio una proposta nei confronti della quale ha finora mostrato un tiepido interesse. Ma intanto la riflessione avviata a livello governativo rappresenta un passo in avanti estremamente importante. Abramo ha infatti ringraziato Gentile per la disponibilità all'ascolto e per avere individuato possibili soluzioni ora allo studio dei tecnici del Ministero. Dall'incontro col sottosegretario allo sviluppo economico è emersa la convinzione che la sola ZES di Gioia Tauro, che pure vede tutti d'accordo, da sola non risolva i problemi di una regione gravata da una forte crisi economica e che necessita di nuovi investimenti italiani e stranieri. Dunque sia la proposta di estendere le semplificazioni burocratiche previste dalla ZES anche ad un'altra zona. Nel richiamare il testo del decreto sud, Gentile ha sottolineato l'esigenza di individuare un nesso economico funzionale con l'area portuale e ha dato la propria disponibilità ad approfondire il tema in modo tale da sviluppare le indispensabili sinergie tra territori ed istituzioni per assicurare successo all'iniziativa. Insomma, se anche l'attuale impianto impedisse l'istituzione di una seconda ZES, potrebbero aprirsi significativi spiragli per allargare i benefici oltre l'area di Gioia Tauro. Per Abramo, Governo e Parlamento devono prendere atto della straordinarietà della situazione calabrese, estendendo a tutto il territorio regionale i benefici previsti dalla ZES per le aziende. Un appuntamento molto importante, lo stiamo già annunciando da un paio di giorni e visto che ci stiamo avvicinando continueremo a farlo anche intensificando, diciamo così, le notizie appello in questo caso fino a sabato prossimo, perché sabato prossimo torna per il settimo anno consecutivo, la prima edizione si tenne nel 2011, la campagna Io non rischio, campagna informativa su terremoti, alluvioni e maremoti che sensibilizza i cittadini sul tema della prevenzione e di rendere più consapevoli contro i rischi naturali. Questa è la cartina che sul sito www.iononrischio.protezionecivile.it trovate, sono 5 le piazze calabresi, come vedete corrispondono ai 5 capoluoghi, sono per la precisione, vi dico anche le piazze, piazza Prefettura a Catanzaro, Corso Mazzini tra piazza 21 Settembre e piazza Bilotti a Cosenza, piazza della Resistenza di mattina e la località Passo Vecchio il pomeriggio a Crotone, piazza Martiri di Ungheria a Vibo e poi piazza Italia a Reggio, fra l'altro in piazza Italia ci sarà anche, sarà una delle 5 piazze che visiterà Angelo Borrelli, perché visiterà e perché 5? Perché sono 103 in tutte le piazze delle città italiane che ospiteranno questa iniziativa promossa dal Dipartimento ovviamente di protezione civile ma anche dall'Istituto Nazionale di Geofisica, la rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e dall'AMPAS, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, che quest'anno si svolge una sola giornata, negli anni passati anche su più giorni è stata spalmata, il cui scopo è rendere la cultura della prevenzione un patrimonio condiviso da tutti e fra l'altro Borrelli insiste sempre sul fatto che i cittadini devono diventare più esigenti anche nei confronti dei loro comuni, dei loro sindaci, delle loro amministrazioni comunali chiedendo piani di protezione civile comunale aggiornati. Ho parlato delle piazze, ci saranno 5.000 volontari in 103 piazze, in Calabria il volontariato di settore che recentemente si è normato diciamo dandosi un registro e poi istituzioni, mondo della ricerca scientifica, saranno tutti insieme per questa comunicazione sui rischi naturali che interessano la Regione. Da un rischio potenziale che è legato ad eventi naturali, che però poi non è sempre solo legato ad eventi naturali ma anche all'opera scriteriata, dissipatrice, ingorda a volte dell'uovo. Parliamo invece di un rischio, quello sì che assolutamente è legato alle nostre condizioni e debolezze umane, quello cioè relativo all'influenza. Sta per tornare, in parte per la verità già da fine settembre l'osservatorio ha già cominciato a segnalare le prime migliaia di casi, ma certo non siamo al picco e anche la campagna vaccinale sta per partire dal 15 ottobre, ma siccome la domenica diciamo dal 16 è disponibile in tutte le farmacie italiane, speriamo, in tutte le farmacie italiane il vaccino. C'è un problema anziani, lo ha sottolineato ieri il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi, perché sarà un caso ma più probabilmente non lo è, dagli 8 mila decessi di media che avevamo fino a due anni fa, siamo passati a 15-16 mila l'anno scorso, non si può non pensare che abbiano avuto un'incidenza alle complicanze legate all'influenza, ecco perché il Tantam sulla campagna vaccinale adesso riparte, è importante che riparta soprattutto al sud, dove lo sentirete nel servizio, ci sono maggiori resistenze, soprattutto nella parte di popolazione che ha un'istruzione meno nobile. Comunque al di là di tutto l'influenza sta per arrivare, facciamone una ragione, i ceppi influenzali saranno gli stessi dello scorso anno. L'influenza stagionale è alle porte e la campagna vaccinale sta per iniziare. Da lunedì prossimo e fino alla fine dell'anno il vaccino anti-influenzale sarà disponibile nelle farmacie italiane, mentre sul sito Osservatorio Influenza, curato dal Ministero della Salute, è possibile reperire informazioni e fare domande agli esperti. L'influenza 2017-2018 sarà provocata dagli stessi tre virus che hanno caratterizzato la stagione passata, con l'aggiunta di una variante, ed interesserà tra i 4 e i 5 milioni di italiani, quindi meno aggressiva di quella dell'anno scorso, che ne aveva allettati ben 7 milioni. I sintomi saranno quelli classici, febbre, brividi, mal di gola, rinorrea, cefalea e dolori osteoarticolari e muscolari. L'incubazione andrà da 1 a 4 giorni, la sintomatologia durerà fra i 5 e i 7 giorni. Sono 9 le diverse formulazioni di vaccino autorizzate dall'Agenzia Italiana del Farmaco, due delle quali tetravalenti e dunque in grado di garantire maggiore copertura. Il periodo ideale per vaccinarsi è da metà ottobre fino a fine dicembre. Le polemiche sui vaccini, come è noto, hanno fatto diminuire le vaccinazioni e crescere il numero delle persone a rischio, tanto che ieri, intervenendo alla presentazione dell'indagine Censis sull'opinione degli italiani circa la vaccinazione anti-influenzale, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, ha detto di essere preoccupato perché per migliaia di persone, soprattutto anziane, l'influenza può essere una malattia mortale. Ricciardi ha sottolineato che, secondo le stime, un anno fa sono morti tra 15 e 18 mila anziani per complicanze legate all'influenza, contro una media che negli anni precedenti è stata pari a circa 8 mila decessi. Un aumento impressionante e che non può non essere messo in relazione al calo della vaccinazione anti-influenzale. Un anno fa, tra gli ultra 65 anni, la copertura è stata del 52%, 16 punti in meno rispetto al 68,3% della stagione 2005-2006, quando si raggiunse il picco massimo di vaccinazioni. Ma in alcune aree del Paese si è attestata addirittura al 30-40%. Affidarsi di meno dei vaccini sono gli abitanti del Sud e le persone meno istruite. Va la pena di sottolineare che la vaccinazione anti-influenzale è fondamentale per diabetici, cardiopatici, persone con patologie respiratorie croniche, perché limita il rischio di riacutizzazioni o di complicanze, con benefici per la salute e per i costi legati alle ospedalizzazioni. C'è anche chi non si vaccina perché ha comunque preso l'influenza anche dopo averlo fatto. Ma va chiarito che quelle contratte sono in vari casi forme para-influenzali più leggere e che l'influenza vera e propria può essere molto più pericolosa. Dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale, scegliete voi l'aggettivo che volete per la giudizio sugli impegni della Nazionale, torna alla Serie A. Sono stati designati gli arbitri dell'ottava giornata. Crotone Torino sarà diretta da Valeri di Roma, i cui assistenti saranno Locicero e Tasso, il quarto uomo Marinelli. Per quanto riguarda la Var, gli incaricati saranno Abisso come ufficiale e Marini come assistente. Vi ricordo che Crotone Torino si gioca domenica alle 15, calcio d'inizio alle ore 15 allo stadio e si uscita. Siccome ci sono tre partitone, le prime della classe sono impegnate l'una contro l'altra armate, diciamo così, sabato due mega anticipi, Juventus-Lazio alle 18, arbitra Mazzoleni di Bergamo. Sarà invece Rocchi di Firenze a dirigere all'Olimpico Roma-Napoli. Il derby tra Inter e Milan, caro a chi sta in messa in onda, per metà naturalmente, dell'universo di quello stadio, di quella sera, domenica sera, la partita tra la squadra di Spalletti e quella di Montella, sarà arbitrati invece da Tagliavento di Terni. Dato che parliamo di calcio, siamo lieti per motivi di, disolvi si dice i cugini, la cuginanza però, in questo caso è soprattutto amicizia, di segnalarvi una iniziativa editoriale che vedrà protagonisti i colleghi del Crotonese, insieme al giornale di sabato, vi ricordo che il Crotonese è un trisettimanale, sce martedì, giovedì e sabato, insieme alle copie di ogni sabato a partire da sabato 14 ottobre, potrà essere ritirata gratuitamente la prima di una serie di cartoline dedicate al Crotone. State vedendo alcune immagini, questi sono Mandragora dall'alto e Ceccherini, mi sembra di vedere. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione col Crotone Calcio, sono cartoline di formato A5, cioè 15 cm per 21, sono ritratti i calciatori della Rosa che sta disputando il campionato di Serie A, sul retro c'è il curriculum di ogni calciatore, la prima cartolina sabato prossimo sarà quella della formazione ed è per la precisione la squadra che ha battuto il Benevento nel penultimo turno di campionato per due reti a zero in casa ottenendo la prima vittoria stagionale. Dopo la formazione, la seconda cartolina in edicola con il Crotonese di sabato 21 ottobre sarà invece quella relativa all'allenatore Davide Nicola. Nella terza ci sarà Ante Budimir e via via tutti gli altri giocatori rosso-blu. In una nota del giornale è detto che l'iniziativa è stata promossa con l'intento, in un'epoca in cui tutto è digitale, di realizzare una testimonianza storica, concreta e non virtuale della partecipazione al massimo campionato di calcio. C'è anche uno slogan azzeccato secondo me, figurine che fanno un figurone, nel senso che le cartoline possono essere conservate in un album messo in cornice, fatto a autografare, per conservare appunto un ricordo della Serie A. Un modo un po' antico, ma insomma tutto quello che age non sempre è negativo, ma molto molto intenso per vivere la passione per il Crotone. Segnalo poi che le fotografie sono del collega Giuseppe Pipita che usa la macchina fotografica come un pennello, glielo ho sempre detto, glielo diciamo in tanti, che è un artista della fotografia e quindi assumono ancora più valore. È tutto per questa edizione, il telegiornale termina qui, torna alle 19.20. Grazie per averci seguito e da più tardi. Grazie a tutti.